L'appello è a mantenere le regole, rispettare le ordinanze, avere buona educazione, evitare di buttare i rifiuti fuori dai luoghi deputati. C'è un centro raccolta tutto gratis a Montecchio per tutta quest'area di 50.000 abitanti, ci sono bidoni per l'immondizia, se non sono sufficienti si aumentano, però bisogna lavorare molto sull'educazione. In più bisogna capire che questa è una fase, non è quella del boom economico. Durante il boom economico erano piene le attività private, super macchinoni e non c'era nulla in disordine. Oggi quello che è pubblico è quasi tutto, non dico la perfezione, ma proprio quasi quello che è del comune. Quello che è privato, molti sono falliti, sono nelle mani dei tribunali e dei curatori fallimentari. È difficile anche per i tribunali e i curatori fallimentari collocare nel mercato quando non c'è una forte richiesta, anche per prezzi molto convenienti. Spesso e volentieri. Quindi c'è un po' di difficoltà. Devo dire per la verità che ultimamente qui c'è molto movimento. Ci sono molte aziende che raddoppiano, potenziano le loro attività. Ci sono investitori che recuperano anche capannoni dismessi. Vedi dove c'è stato l'Aspar, l'incendio, che hanno già preso un progetto per fare il capannone nuovo. C'è un bel movimento dal punto di vista economico e ci fa sperare bene anche nel ritornare alla piena occupazione. Perché soprattutto una città nuova, una città di giovani, una città dove nascono tanti bambini e una città che punta alla piena occupazione. Lavoro, benessere, crescita e decoro urbano. Su questo noi insisteremo molto. Prima di tutto c'è necessità di educare le persone e poi anche reprimerle e fare anche i verbali a chi fa le cose che non deve fare. Stanno procedendo i lavori del Comune. Entro l'anno vedremo l'insieme della struttura. Non dico quasi finita, ma a primavera prossima avremo quasi ultimato il Comune nuovo. Dovremmo avere una risposta a giorni per far partire i lavori dell'appalto del nuovo teatro. Perché le prime ditte hanno rinunciato perché avevano altri lavori in giro per le Marche e per l'Italia. E poi stiamo mettendo la data per l'inaugurazione del Teatro Cinema Teatro Branca Sant'Angelo in Lissola. Abbiamo realizzato nuovi parcheggi a fianco alla Casa della Salute dove nasce il nuovo Comune. È tutto un cantiere aperto, Valle Foglia, pubblico e privato. Quindi un bel binomio. È una città in forte crescita. Abbiamo organizzato anche quest'anno le vacanze per i bambini. Tante persone parteciperanno e c'è un bel tradunione comunque tra pubblico e privato perché l'obiettivo che è comune è dare benessere al lavoro e futuro a questa città che è una città in forte crescita che guarda al futuro con fiducia e con speranza.